ciao a tutti e buonasera a tutti quanti benvenuti alla quinta e ultima puntata della nostra serie alla scoperta di python questa sera ci sono io mi dispiace per voi non c'è nessun grande ospite e ci tengo ancora un sacco a ringraziare davide e luca per le precedenti serate per la loro disponibilità e spero che tutti voi a questo punto diciamo del delle serate dopo cinque settimane da sei perché abbiamo fatto la pausa abbiate fatto qualche esercizio e abbiate provato a fare un po' di test di prove eccetera eccetera perché perché questa sera vedremo un po' di pratica cioè vi farò vedere un po' delle insomma come funziona come si può fare un piccolo progettino su un piccolo caso d'uso quindi questa sera non ci sono slide ci sarà un po' di live coding proveremo a fare un po' di scrivere codice un po' assieme quindi vi chiedo per favore di cercare di seguirmi e se non riuscite a seguirmi scrivetemi ci fermiamo ne parliamo insomma vorrei scrivere un po' di codice assieme a voi e guardare un po' di codice assieme intanto introduciamo un po' di concetti un po' di tematiche legate un po' un po' più allo sviluppo ok come sempre grazie a tutti voi di essere qui e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo su youtube in questa serie che so che sono abbastanza ci hanno scritto un po' di persone e quindi insomma se siete su youtube iscrivetevi ormai siamo a più di 815 iscritti l'immagine non dobbiamo aggiornare e se non vi siete ancora iscritti a youtube iscrivetevi grazie ancora a Davide e a Mario sempre per l'organizzazione e qui come sempre trovate tutto il nostro canale i nostri materiali, i link e tutte le informazioni qui sotto invece i nostri due siti dove noi pubblichiamo un po' di cose ok c'è il nostro canale discord in cui cerchiamo di star dietro alle conversazioni e di darvi supporto lo diciamo sempre soprattutto per queste serate se fate gli esercizi e provate a fare insomma qualche prova se avete dei problemi scrivete in questo canale supporto e noi cercheremo di aiutarvi appena possiamo qui appunto trovate il link con il QR code oppure su Python Biela Group e mi raccomando per chi non si fosse sintonizzato solo ora sui nostri canali e non avessi ancora avuto modo di guardare tutto quanto trovate tutto il codice, il materiale, tutto quello che è stato fatto nelle precedenti serate sempre su il nostro, la nostra repository GitHub dove trovate tutto il codice delle serate, il materiale e quant'altro detto ciò, bando alle ciance, io cercherò di intrattenervi per più di un'oretta, spero o magari più, non so, tre ore, vediamo chi ha voglia di andare a dormire questa sera io tanta allora, vediamo un po' allora, cosa facciamo questa sera? allora, questa sera andiamo un po' a ruota libera in realtà, come vi dicevo non ci sono delle slide, non c'è del materiale pronto come nelle precedenti serate dove c'erano appunto dei Jupiter Noctub e quant'altro questa sera utilizziamo un piccolo gioco chiamato Game of Life magari qualcuno di voi lo conosce è un bellissimo gioco scritto da Con... definito da Conway adesso prendo magari, se riesco a trovarlo, l'ho chiuso perfetto, volevo farvi vedere un esempio presentazione serata, eccolo qua Conway Games of Life ok e sostanzialmente è questo gioco qua, ok è molto molto bello è un piccolo giochino adesso poi vediamo le regole assieme che sostanzialmente non richiede un input umano ok, ci sono praticamente questi... questa simulazione di automi cellulari che in qualche modo evolvono e interagiscono con l'ambiente e con le altri automi cellulari attorno a loro è un esempio molto semplice, molto carino che però ci aiuta a, insomma, definire alcune cose tipo ci aiuta a scrivere dei for, ci aiuta a interagire con l'utente, ci aiuta a, insomma, scrivere un po' di regole e trovate tantissime implementazioni di questo Game of Life online noi cercheremo questa sera, se riusciamo di farne due la prima utilizzando la libreria standard di Python quindi senza utilizzare la libreria esterne solo terminale Python base con tutte le nozioni che abbiamo visto nelle precedenti puntate e con una versione basata magari su Pygame con NumPy, se riusciamo, verso fine serata vi ricordo che il materiale lo trovate qui Python base, c'è già la descrizione del progetto se andate su esercizi Game of Life, lo trovate qui qui c'è appunto la definizione del gioco la vediamo un attimo assieme allora, Game of Life è un gioco senza giocatori come vi dicevo prima puoi aumentare i caratteri, per favore mettere tutto schermo mettere tutto schermo, ok scusate, sono un monitor abbastanza con un'altra risoluzione meglio, grazie ok ok allora, le regole del gioco sono queste poi le rivediamo bene assieme mentre le sviluppiamo allora è un gioco senza giocatori come vi dicevo esiste uno stato iniziale del gioco non esiste alcun input da parte di giocatori umani in realtà non è vero perché voi potete definire una griglia posizionando degli automi di partenza quindi definendo lo stato iniziale del vostro sistema e abbiamo a disposizione una serie di griglie quadrate di caselle quadrate che si estende si può estendere all'infinito ok questa griglia di quadratini ho la griglia vabbè viene chiamata mondo e ogni cella ok se ci pensate ha attorno otto vicini ok tre sopra tre sotto e poi due ai lati quindi tutte le celle adiacenti ogni cella può trovarsi in due stati quindi ci sono due stati nel nostro gioco la cellula può essere viva o può essere morta ok e lo stato della griglia quindi c'è un concetto di scorrere del tempo man mano che il tempo scorre in maniera netta e queste cellule muoiono e vivono secondo alcune regole ovviamente lo stato delle celle in un singolo istante quindi voi in questo momento guardate il mondo guardare il mondo in questo singolo istante significa precalcolare e calcolare quello che succederà nello stato successivo e quindi c'è questo scorrere del tempo una cosa molto interessante su questo gioco è che è stato definito sulla carta e poi è stato programmato le prime programmazioni sono state negli anni 70 quindi se cercate online trovate delle curiosi implementazioni di questo bellissimo gioco e una cosa molto importante è il concetto di transizione quindi per il mondo si evolve in transizioni quindi c'è lo stato attuale poi c'è lo stato successivo e c'è una transizione una transizione avviene quando qualsiasi cell qui ho scritto cella in realtà sarebbe cellula però chiamiamole celle qualsiasi cella viva con meno di due celle vive adiacenti muore quindi se c'è una cella viva e ci sono meno di due celle adiacenti nel rettangolo attorno muore ok quindi diventa zero lo stato come per l'effetto di isolamento cioè quindi se non abbiamo persone attorno a noi barra non possiamo essere aiutati da nessuno crepiamo qualsiasi cella viva con due o tre celle vive adiacenti quindi se una cella è circondata da due o tre celle adiacenti sopravvive alla generazione successiva ok quindi rimane viva sempre nell'intorno qualsiasi cella viva con tre celle vive adiacenti muore come effetto di sovrappopolazione ok quindi abbiamo isolamento sovrappopolazione e mantenimento insomma della vita e qualsiasi cella morta con esattamente tre celle vicine vive quindi una cella morta con tre vive diventa una cella viva come effetto di riproduzione ok quindi tre cellule ne fanno una sostanzialmente adiacente spero che sia chiaro le regole se non sono chiare le rivediamo un attimino e ne parliamo quindi questo è un po' quello che cercheremo di implementare questa sera allora prima di tutto io ne approfitto di questo esercizio per raccontarvi anche un po' di cose legate al mondo di Python allora come sapete quindi lasciamo a parte un attimo il gioco poi ci ritorniamo dopo durante l'implementazione come sapete Python è un linguaggio di programmazione e ha bisogno di un interprete ok quindi ha bisogno cioè voi dovete fare un'installazione di Python sulla vostra macchina e voi potete utilizzare appunto Python per lanciare degli script dei programmi o quel che si voglia nelle precedenti puntate se vi ricordate questa è la repository di GitLab di GitHub che ho clonato quindi scaricato insomma ho clonato sul mio sul mio computer se vi ricordate bene noi nelle precedenti serate utilizzavamo questi IPINB che sono dei Jupyter Notebook cioè delle collezioni di di notebook ok dove ci sono delle cellule di test delle cellule di script ma interno invece questa sera utilizzeremo gli script veri e propri cioè questa sera noi realizzeremo degli script Python e proveremo a lanciarli per farlo abbiamo bisogno di installare anche delle librerie quindi abbiamo bisogno di creare un ambiente che abbia al suo interno delle librerie cosa sono le librerie? sono una serie di collezioni di funzioni classi metodi insomma funzionalità che possono estendere il linguaggio che vengono messe a disposizione da parte delle persone e caricate in un possiamo chiamarla repository online che si chiama PyPy per Python ok dove voi potete diciamo scaricare queste librerie installarle ed estendere le funzionalità a base del linguaggio in modo tale da come dire potenziare il linguaggio se volete o fargli fare determinate cose tipo se voi prendete in considerazione Pandas che è una libreria che serve per utilizzare insomma analizzare i dati quindi manipolare i dati leggendoli da un file csv da un file excel quella è una libreria che vi consente di usare dei metodi delle classi delle funzioni per poter fare questo tipo di operazioni ovviamente su Python ovviamente che cosa succede voi quando voi installate Python sostanzialmente adesso la mia è un'installazione un po' particolare però vi faccio vedere allora voi aprite il vostro terminale adesso poi vediamo anche un attimo Visual Studio Code cos'è come funziona e perché Visual Studio Code quando voi aprite il terminale sostanzialmente e voi fate Python ok o Python 3 a seconda di sistema operativo dove siete la configurazione che avete fatto di installazione viene lanciato il vostro insomma la vostra riga di comando di Python dove voi potete fare delle operazioni ok però qui dentro come faccio a installare delle librerie l'abbiamo visto nelle precedenti serate devo utilizzare quello che si chiama pip ok quindi devo fare pip install il nome di una libreria tipo pandas in questo caso ok in questo caso pandas è già installato quindi se io mi apro il mio Python e faccio import pandas as pd as e l'alias ok in questo momento sto importando la libreria Python all'interno del mio della mia shell del mio terminale e posso fare pd punto non lo so data frame e usare le come dire le funzioni che mi mette a disposizione le funzionalità che mi mette a disposizione pandas in questo caso ok però che cosa succede succede che quando voi installate Python e installate le librerie tutte queste librerie vanno a finire dentro la vostra installazione di Python e magari voi avete differenti progetti quindi avete un progetto per questo per queste serate un progetto vostro per cavoli vostri per fare delle prove dei test e quant'altro e o magari un progetto per il lavoro o qualsiasi altra cosa quindi è bene separare questi ambienti in modo tale da avere diciamo delle versioni delle librerie dedicate per un determinato progetto per un determinato esperimento progetto o quant'altro questa cosa qua si chiama virtual environment in Python e i virtual environment sono molto importanti chiamati anche VEMV ok perché consentono di installare una serie di librerie una serie di funzionalità all'interno di uno specifico ambiente in modo tale da come dire differenziare gli ambienti a seconda del contesto secondo del progetto quello quello che si vuole fare tra l'altro a proposito qui sul nostro repository trovate nella parte di teoria dentro a setup ambiente trovate un po' una guida adesso ve la faccio vedere così trovate un po' una guida di come si fa a installare Python cos'è Anaconda che cos'è un virtual environment un po' di comandi utili eccetera eccetera ok quindi trovate un po' di queste cose quindi sostanzialmente questa sera noi dobbiamo installare le librerie all'interno di un virtual environment e per farlo come si fa sostanzialmente è abbastanza semplice direi molto semplice ok voi dovete allora ci sono diversi modi ok io ve ne faccio vedere ve ne faccio vedere due il primo è dovete se siete su Linux dovete installare tipo se fate sudo apt install scusa Andrea se ne esisto ma è scritto di nuovo piccolo anche qua ancora piccolo così è abbastanza grande sì sì va meglio se mettiamo ok aspetta che metto tutto schermo perché se metto tutto schermo io poi non vedo perché c'è un altro pc sotto quindi devo fare per forza così il mio schermo non si alza abbastanza ok aspetta faccio così ok spero che si veda così quindi faccio sudo apt install virtualenv se sono su Linux e installo praticamente virtualenv ma se voi avete Python potete semplicemente fare pip install virtualenv ok e installate praticamente la funzionalità di virtualenv all'interno di vostro del vostro Python che avete installato sulla macchina in questo caso il mio è 3.9.13 ok quindi una volta installato virtualenv quello che si può fare è sostanzialmente fare python meno m venv ok e il nome del vostro environment adesso abbiate pazienza lasciatemi entrare dentro la cartella esercizi esercizi game of life ok col terminale sono entrato dentro la mia cartella game of life e qua faccio sostanzialmente python meno m venv env e in questo momento che cosa succede? python mi sta creando un ambiente virtuale dentro a esercizi env vedete questo è il mio ambiente virtuale python che io posso utilizzare per il mio progetto come posso utilizzarlo? semplicemente facendo source env in questo caso perché il mio ambiente si chiama env ok magari primo punto env vedete ok bin activate e questa è una cosa che funziona su tutti i sistemi operativi perché appunto python è funziona su tutto su tutti quanti su linux windows o mac in questo caso sono su mac però potete farlo ovunque non sarebbe meglio fare pip 3 allora la differenza tra pip 3 e pip è a seconda del sistema operativo dove sei se sei su linux è probabile che tu avendo installato python ti trovi al posto di fare python qualcosa devi fare python 3 perché in alcune macchine in alcuni ambienti di default viene se tu scrivi python o se tu scrivi pip viene installato python 2.7 cioè è preinstallato python 2.7 in questo momento io non ce l'ho perché è una configurazione un po' particolare però ricordatevi che appunto se voi fate python 3 ok vi apre python 3 punto qualcosa mentre se in alcune macchine voi fate python python 2.7 la stessa cosa vale per pip se voi fate pip e basta a seconda di quello che avete installato sulla macchina vi apre il pip del python 2.7 mentre altre volte insomma vi apre altro a seconda di quello che avete configurato durante la fase di installazione la fase di installazione volutamente non la vediamo queste sere perché mi sembra abbastanza inutile vedere come si installa python su tutti i sistemi operativi eccetera eccetera siccome c'è veramente tantissime risorse online abbiamo messo anche noi un sacco di risorse a disposizione quindi si tratta solo di andare a vedere come funziona l'installazione ecco e cosa vuol dire quindi io adesso ho attivato il mio virtual environment facendo source e non mi ricordo se l'ho fatto bin activate ok in questo momento ho attivato il mio ambiente quindi se io faccio sostanzialmente pip list ok vedete questo è uso pip in questo caso e non pip 3 però non so se no ok non cambia niente queste sono le mie librerie che sono installate setup tools setup tools e pip non c'è nient'altro quindi c'è linguaggio base più pip e setup tools per installare delle librerie come abbiamo visto basta fare pip install una libreria tipo numpy una libreria abbastanza ciccionina e quindi se io faccio il mio pip list io vedo che ho installato numpy 1.23.4 allora se io poi voglio in qualche modo disattivare il mio environment posso fare deactivate e disattivo il mio virtual environment quindi se faccio pip list vedete questo è il mio le librerie eco installato nella mia versione di default di python come si fa a capire che librerie ho bisogno allora dipende cioè nel senso dipende da quello che stai facendo di default python sono già presenti tantissime librerie vi farò vedere adesso che scriviamo il codice che in realtà non è che ci serve più di tanto avere delle particolari librerie ma se tu vuoi in qualche modo fare qualcosa di particolare come dicevo prima ad esempio utilizzare i dati da excel per fare delle manipolazioni eccetera eccetera in quel caso per esempio puoi utilizzare pandas ovviamente google è l'amico che fa per te quindi il consiglio come sempre voglio fare questa cosa non so come farla provo a cercare online su google e vedo un po' che cosa che cosa posso installare che cosa posso usare eccetera eccetera se posso darvi un consiglio vi suggerisco sempre di cercare delle soluzioni semplici utilizzando il più possibile il linguaggio base quindi fate ricorso a fate attenzione a installare troppe librerie perché poi è un caos quindi magari poi ci sono tanti problemi quindi il mio consiglio è cercate di utilizzare il più possibile il linguaggio base e cercate di far ricorso alle librerie il meno possibile solamente se necessario giusto per darvi un esempio se voi andate qui e fate py py ok questo praticamente è il registro di tutti i pacchetti e le librerie python che esistono in questo momento ci sono 413 mila progetti ok 3 milioni 918 mila release di librerie quindi si può dire tutto a meno che non ci sia qualche libreria che vi serve anche qua un altro suggerimento è è sempre bello è importante imparare e scriversi le cose a mano perché ci aiuta a imparare tanto ma probabilmente se dovete fare del codice potete cercare online sicuramente qualcuno ha risolto il problema al posto vostro prima di voi e magari meglio però insomma a volte è anche importante avere un incentivo nel realizzare le proprie soluzioni secondo me è molto importante cercare di portare avanti questa cultura di provare a risolvere dei problemi per nostro conto insomma senza sforare poi nella pazzia ovviamente quindi se tu vai qua e cerchi ad esempio pandas qui vedi che pandas pandas 2 pandas 1.5.1 perché ci esiste pandas 2.0.0 se è super scam questo progetto è un po' inquietante il 18 settembre 2017 sarà qualche prova fatta da qualcuno questo è il progetto originale quindi pandas e qua c'è un po' tutta la descrizione quindi potete andare qua per vedervi un po' il progetto la libreria potete vedere la home page il source code la documentazione potete vedere la repository git per cercare di capire com'è fatta ci sono un po' di esempi e quant'altro se è fatto bene un package quindi una libreria appare in questo modo ok su PyPy con tutte le informazioni di cui avete bisogno ok allora dove siamo arrivati? sì qua allora come vi dicevo nel virtual environment adesso in questo momento è vuoto esiste solamente adesso questa è la cartella se vedete game of life ok esiste solamente allora dentro bin voi trovate appunto alcuni file binaries ad esempio activate che serve per attivare l'ambiente e trovate dentro lib tutte le librerie che ci sono ad esempio NumPy che abbiamo appena installato ok quindi qua trovate la vostra libreria di NumPy con tutto il codice quando voi installate una libreria praticamente vi viene giù il codice ok e potete utilizzarlo c'è un'altra allora questa cosa virtual environment si usa tantissimo ancora e sempre è molto comodo è molto veloce è molto potente perché vi dà la possibilità anche di definire un file chiamato requirements.txt ok questo è uno standard ok c'è una una PEP che definisce questi standard PEP appunto i PEP sono gli standard di Python sostanzialmente le trovate diversi se cercate PIP PEP insomma cose così o requirements BEMV PEP trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno le guide le linee guide ufficiali del linguaggio se io creo questo requirements.txt questo file io posso in questo file definire delle mie dipendenze quindi posso fare non so Pandas posso fare non so Matplotlib scusate sono molto bias nel mondo data science utilizzandoli praticamente tutti i giorni Seaborn ok sono alcune librerie che mi vengono in mente diciamo nel mondo data science e se io praticamente vado dentro al mio ok sono nella mia cartella vedete che qui c'è questo requirements.txt se io faccio pip install meno r requirements.txt quello che succede è lui in automatico mi legge i miei requisiti e me li installa ok posso anche forzare l'installazione di una determinata versione ad esempio qua metto non so 0.9.0 posso mettere qua non so 1.5.1 ok oppure posso avere diversi posso configurarlo in modo diverso questo requirements.txt è molto importante perché perché se lavorate con qualcuno o trasferite il vostro progetto su un'altra macchina in sviluppo in produzione o quello che volete potete definire le librerie installarle molto velocemente molto facilmente utilizzando questo requirements.txt quindi mi raccomando provate a farlo è molto comodo quando voi fate un nuovo progetto provate a crearvi il VEMV quindi il virtual environment per quel progetto che voi state facendo sostanzialmente ok in questo caso se noi cancelliamo il punto env ok noi cancelliamo tutto il nostro ambiente virtuale quindi con tutte le librerie installate se ci rimane il requirements.txt quello che posso fare io come vi dicevo è pip install meno r no prima devo attivare l'environment quindi devo fare python meno m ve vm env sta installando l'ambiente poi faccio source env bin activate magari come l'ho chiamato env ok attivato e poi quello che faccio è pip install meno r requirements.txt ok in questo caso lui mi dice attenzione io non riesco a trovare una versione 1 1.5.1 di pandas posso arrivare forse perché l'ho scritto male è con uno solo non me lo ricordo mai vediamo no è giusto con due come non mi trovo la 1.5.1 vediamo invalid requirement sono scemo ok non trovo la versione 1.5.1 ok possiamo dirgli 1.5 vediamo se se va non me lo vale neanche così va bene facciamo forse era senza il doppi apici mi sembra scusate abbiate pazienza non lo uso mai adesso vi spiego perché non lo uso mai è senza il doppi i doppi apici ok sto installando le librerie e quant'altro allora perché non lo uso mai personalmente cioè allora questo è il modo di default che viene utilizzato su python per creare virtual environment è il primo metodo uno dei primi metodi è quello più utilizzato sicuramente quello più semplice ci sono degli altri metodi tipo ppx c'è pyenv c'è plot buonanotte oh mamma mia e lo uso tutti i giorni non pyproject.tomol come si chiama poetry buonanotte poetry e esatto ppdm ci sono tanti modi per installare le librerie e per configurare le librerie alcuni più potenti di altri una cosa che a me non piace moltissimo di virtual environment e di pip è fatto in questo modo è che voi avete poco controllo sulle versioni delle librerie che voi installate sostanzialmente e non vi fa un controllo spesso delle dipendenze che ci sono tra un pacchetto e l'altro cioè questa libreria pandas si porta dietro delle dipendenze quando voi le installate cioè delle altre librerie sotto di essa che servono per farla funzionare non c'è in questo momento un controllo tra queste librerie c'è ma è molto diciamo semplice e molto spesso voi vi trovate magari a installare diverse versioni delle librerie e avete dei conflitti e voi non sapete perché e diventate matti quindi ad esempio un tool che utilizzo molto spesso si chiama poetry che serve appunto per superare questi problemi e se voi andate qui python bll group punto it e voi andate ve lo zoom un attimo su gestire le dipendenze quindi le diverse librerie eccetera trovate diversi utilizzi quindi trovate virtualenv la guida che abbiamo appena appena visto poetry che è quello che vi dicevo con alcuni suggerimenti eccetera e poi le altre versioni anaconda è quello che abbiamo citato adesso prima o poi lo aggiornerò però c'è la guida su python base su cos'è anaconda però se voi avete installato seguendo le precedenti serate anaconda e avete provato a utilizzare conda environment voi avete utilizzato praticamente questo sistema sostanzialmente solo che conda non utilizza pypy ma utilizza può utilizzare anche pypy quindi pip ma utilizza anche la loro diciamo repository per le librerie che si chiama appunto conda ok detto ciò abbiamo creato il nostro virtual environment quello che volevo farvi vedere è visual studio code allora perché visual studio code qui poi non voglio aprire la flame wars una guerra di flame su qual è il miglior ide quindi ambiente di programmazione eccetera eccetera voglio semplicemente dirvi che io mi trovo molto bene con visual studio code per diversi motivi ovviamente ognuno ha il proprio editor preferite usate quello che volete non mi interessa usate vim usate emax usate insomma quello che vi pare non so cos'è che c'è di sublime text pi chan qualsiasi cosa non mi interessa perché vi facciamo vedere visual studio code perché secondo noi è molto bello atom esatto perché vi consente di come vi dicevo visualizzare e utilizzare i notebook direttamente all'interno di visual studio code e allo stesso tempo vi consente di scrivere degli script ed è tutto open source quindi è gratis soprattutto quindi voi potete tranquillamente utilizzare visual studio code per fare e funziona su tutte le piattaforme quindi non avete problemi lo scaricate lo installate ce l'avete basta alcuni accorgimenti su visual studio code prima di iniziare a scrivere codice allora la prima cosa sono le estensioni che se installate visual studio code vi consigliamo assolutamente di installare l'estensione di python quella di default di microsoft ok che in automatico vi installa alcune funzionalità del linguaggio tra cui l'intellisense quindi vi suggerisce in modo un pochino intelligente alcune cose l'inting debugging quindi l'inting significa che vi sottolinea e vi fa vedere quando ci sono degli errori debugging vi consente di utilizzare il debug e adesso poi lo vedremo che cos'è e come funziona jupiter notebook e tanto tanto altro quindi è un'estensione molto molto ricca di python e ufficiale di microsoft ok poi vabbè adesso qua trovate tantissime ho installato tantissime altre estensioni ma come vi dicevo sempre se voi andate sul sito pythonvielagroup.it e andate su visual studio code qui trovate appunto una bella guida di visual studio code abbiamo fatto anche una serata la trovate su youtube se siete interessati a tutti questi tool strumenti e quant'altro che si chiama modern python development e qui trovate appunto un po' di guide di suggerimenti di alcune estensioni che potete installare come funziona come configurare python trovate tutta la guida la guida qua quindi se avete qualche problema andate qui fate riferimento su a questa questa piccola guida qui ok iniziamo a scrivere un po' il nostro codice perché il tempo è tiranno si potrebbe parlare tutta la vita di questi strumenti e di come funzionano e come si usano direi che è giusto iniziare a scrivere un po' di codice quindi la prima cosa che faccio è pulire un attimo il sistema e installare alcune librerie che sono sicuramente molto utili e adesso vado un po' velocemente vi spiego cosa fanno queste librerie e poi le installiamo e poi vedremo appunto che cosa servono e come funzionano allora la prima prima di tutto installiamo come librerie allora pilint poi adesso ve le spiego bandit black lake 8 installiamo anche ipython installiamo anche mypy e installiamo e installiamo direi che per adesso basta avanza magari jupiter se volete visualizzare i notebook e installiamo auto per 8 che però vabbè non ci servirà questa sera poi installiamo anche pygame installiamo anche un py allora questa non è una bella cosa c'è quello che sto facendo io sto scrivendo una collezione di librerie senza definire la versione di riferimento un'alternativa per scrivere il requirements punto txt che volevo farvi vedere è che voi potete adesso io questo me lo copio voi potete fare sostanzialmente pip install pip install una libreria e poi voi potete fare potete lanciare diciamo un comando per salvare il vostro ambiente in un file requirements punto txt senza usarlo voi a mano potete fare pip non pipi pip freeze requirements punto txt in questo modo viene in automatico scritto il requirements punto txt con la versione che avete installato nel vostro ambiente ok ma siccome noi questa sera vogliamo fare tutto da capo perché perché sì lo facciamo a mano quindi facciamo così non è bello però passatemelo insomma ok quindi abbiamo detto ripetiamo le cose python meno m venv m facciamo venv punto venv diciamo sì lo chiamavano punto venv ok il nostro virtual environment possiamo chiamarlo come vogliamo possiamo chiamarlo anche pippo però vedete se uso questa sintassi punto venv in automatico visual studio code me la riconosce come un virtual environment di default quindi poi attivo il virtual environment venv bin activate ok quindi l'ho attivato e in questo momento quello che faccio è installarmi le librerie che ho definito qui quindi pip install meno r requirements punto txt ok e lui mi sta installando tutte le librerie cosa servono queste librerie man mano che lo che le installa le vediamo allora pilint come dicevo è linter linter vi consente di vedere quando ci sono degli errori quando state scrivendo delle cose che non sono definite bene quando ci sono appunto degli errori di sintassi sostanzialmente nel vostro codice bandit è una libreria che vi consente di fare un controllo di sicurezza sul vostro codice quindi ad esempio per chi di voi lo conosce se c'è il rischio di SQL injection ad esempio quindi black invece vi consente di autoformattare il codice in modo tale da rispettare pepotto è molto aggressivo dopo poi lo vediamo un po' in azione flaycotto fa tante cose tra cui fa anche anche lui dall'inter in realtà io uso come l'inter spesso flaycotto ipython è un una libreria quella faccio vedere qua se io scrivo ipython ok mi apre diciamo una riga di comando sempre sul mio python un po' più come dire smart ed è la base su cui funziona jupiter cioè jupiter funziona sopra ipython poi c'è poi c'è sempre mypy che fa dall'inter ma fa tante altre cose jupiter lo conosciamo autopopotto è tipo black e poi abbiamo pygame numpy pygame è la libreria di default per fare dei piccoli giochi su python e numpy è una libreria per fare processing quindi per processare diciamo matrici calcolo matriciale vettori in modo molto molto veloce ok quindi questo è un po' per rispondere diciamo a polgare prima intanto saluto jean spero che si parli così si dica sì che si parli che si dica così ciao jean e iniziamo a scrivere un po' un po' di codice allora prima cosa come si organizza una un progetto python ok allora anche qui ci sono tanti modi come vedete io qua adesso sono su una cartella chiamata game of life qui c'è il mio punto env qui c'è il mio requirements come posso fare per organizzare il mio codice anche qua ci sono diversi standard diversi modi a me piace molto questo scrivo il nome del mio della mia libreria del mio modulo che sto implementando in realtà si chiama modulo spero che sia chiaro appunto cos'è un modulo e cosa no all'interno di questo modulo metto una cartella chiamata source dove ci sarà tutto il mio codice sorgente qua creo il mio main o il mio app punto pi che sarà il mio diciamo codice che farà partire il mio progetto e dentro game qua posso avere delle altre cose tipo posso avere una cartella di test posso avere delle risorse posso avere delle utility posso gestimere un po' come voglio cioè c'è molta libertà diciamo che è abbastanza comune avere questo game source e poi il main fuori quindi teniamo questa diciamo organizzazione struttura di progetto allora è importante definire se vi ricordate questi file chiamati init.py all'interno dei vostri moduli perché consentono all'interprete di definirli come dei moduli che possono essere importati eletti da altri file quindi se io da main voglio leggere un file ad esempio che dentro a source che conterrà le nostre regole quindi non lo so chiamiamolo rules punto pi ok io poi posso importarlo però è importante che ci sia questo init.py all'interno di questa cartella ok adesso poi vediamo come funziona l'importazione e tutto quindi noi siamo su main punto pi e che è il nostro diciamo punto di partenza come si scrive un main in python allora in realtà è molto semplice bisogna scrivere questa cosa qua questa sintassi qui ok main non abbiamo tempo di andare bene nei dettagli di tutte queste cose però questo è come si scrive sostanzialmente un main e noi scriviamo tipo al nostro hello world ok ovviamente noi se proviamo a lanciare questo file da terminale in teoria dovrebbe funzionare in teoria python game main punto pi ok hello world quindi funziona però una cosa importante che dobbiamo fare ops una cosa importante che dobbiamo fare è dirgli a python sostanzialmente di utilizzare il come dire l'ambiente e vedere caricare i moduli che stanno all'interno di quella cartella lì per farlo c'è un piccolo escamotage bisogna settare il contesto praticamente dove noi stiamo agendo quindi se noi andiamo vediamo se ce l'ho ok se noi scriviamo questa cosa qua python pythonpath uguale punto ok python game main punto pi ok questo lo sta dicendo ok settami il pythonpath quindi il path principale della mia cartella dove sono appunto vuol dire questa cartella qui e poi lanciami il main punto pi che è il mio che è il mio file main punto pi attenzione a questa variabile in ambiente perché spesso serve ok impostarla soprattutto se avete dei progetti che partono se non partite non aprite l'editor il vostro id dentro una cartella ma aprite l'aprite magari da fuori eccetera eccetera ok quindi attenzione a questo pythonpath perché altrimenti a volte non vi carica i moduli e avete un po' di problemi quindi noi abbiamo scritto il nostro modulo il nostro primo diciamo main molto semplice quello che dobbiamo fare adesso è iniziare a scrivere un po' le logiche del gioco quindi a provare iniziare a scrivere un po' il gioco allora cosa dobbiamo fare prima di tutto per scrivere il nostro gioco allora noi dobbiamo scrivere dobbiamo girare da terminale dobbiamo scrivere delle regole del gioco dobbiamo avremo poi dei file di configurazione per gestire per esempio il terminale eccetera eccetera e poi avremo no chiamiamolo vabbè utils ad esempio poi anche qui attenzione sempre ai nomi cerco di dargli un po' un senso e poi avremo sostanzialmente una funzione che fa il runner cioè quella che si occuperà di lanciare il gioco sostanzialmente da dove partiamo partiamo da facciamo un approccio molto bottom up quindi dal dalle regole partiamo a definire le le logiche poi ad alto livello ok sarebbe meglio fare il contrario ma va bene così ok allora la prima cosa che dobbiamo fare è se vi ricordate le regole controllare ops qua se la posso fare allora è implementare le regole del gioco quindi noi abbiamo questa griglia che non abbiamo ancora costruito poi la costruiremo ma la cosa che dobbiamo fare principalmente è gestire le transizioni quindi quando diciamo i vicini sono vivi ok con meno di due celle vive adiacenti la cella viva con due o tre celle vive adiacenti oppure la cella viva con più di tre celle vive adiacenti ok quindi dobbiamo un po' gestire queste situazioni sostanzialmente ok ok la prima cosa da fare sicuramente è costruire una funzione che cosa fa get leave nei guarda che bello copilot a volte neighbors possiamo anche scrivere in italiano non è però meglio se lo scriviamo in inglese per abituarci quindi noi abbiamo detto che abbiamo le righe abbiamo le nostre colonne e quello che dobbiamo fare appunto è controllare se queste righe queste colonne e la nostra abbiamo la nostra griglia praticamente ok quindi qui quello che dobbiamo fare è ad esempio noi controlliamo quante vogliamo fare una funzione che restituisce quante celle vive ci sono in base ai vicini quindi life sum la chiamiamolo life numero di vite che ci sono in questo momento è zero perché appena entriamo appunto è zero e quello che dobbiamo fare è ciclare per il nostro per i nostri vicini ok e controllare appunto quante forme di vita ci sono all'interno di questo intorno vi ricordo che game of life appunto noi dobbiamo controllare se ogni cella ha otto vicini dobbiamo controllare se ci sono delle celle vive sostanzialmente quindi noi andiamo qui e facciamo che cosa iniziamo a scorrere il nostro il nostro la nostra lista di il nostro diciamo la nostra matrice una matrice composta da cosa da righe e da colonne quindi quello che andiamo a fare è fare for in range meno uno cioè che la cella precedente a due sostanzialmente e for j in range di meno uno vincolo due magari se riesco a scrivere le cose fatte bene è meglio e se i uguale a zero and j uguale uguale a zero quindi se non troviamo praticamente dei delle delle celle delle celle vive quello che facciamo è praticamente fare lives più uguale quindi se ci sono delle celle vive not i uguale a zero and j uguale a zero quindi se ci sono delle celle che sono vive quello che vado a fare è incrementare praticamente il mio numero di celle vive ok in questo momento lasciamo vuoto perché grid non sappiamo che cos'è ok non abbiamo ancora definito che cos'è grid sostanzialmente quello che dovrò fare è andare a incrementare praticamente il numero di persone vive quindi faccio return di lives il numero di vite che ho trovato alcune cose vedete se io adesso salvo il file per come ho configurato il mio editor mi dice che black non è installato vuoi installarlo perché mi dice che non è installato ma noi l'abbiamo installato qui nel nostro requirement .txt perché su video studio code ogni volta che voi dovete utilizzare e lanciare qualche progetto dovete ricordarvi di fare f1 oppure non mi ricordo qua dove si apre io mi ricordo solo f1 command palette ok e dovete fare select interpreter cioè dovete dire alla finestra di video studio code qual è il vostro interprete che voi volete utilizzare in questo caso visto che non è questo non è questo quindi io cosa faccio faccio enter interpreter path find io vado qui e gli dico che deve in game of life utilizzare venv bin activate ok select interpreter ok ok perfetto non gli piace ah sì perché esatto questa è una cosa un po' sciocca di video studio code che su video studio code voi dovete selezionare venv bin python e non activate perché sennò si arrabbia quindi scendiamo sotto cerchiamo python ok select interpreter dovrebbe piacergli adesso sta caricando e quindi qua vedete che mi ha attivato sostanzialmente il mio dovrebbe avermi attivato il mio interprete se è stato bravo non me l'ha attivato perché non me l'attiva maledetto a volte allora il video studio code è molto bello ma su questa cosa non hanno mai risolto questo problema qui in realtà nei progetti veri e propri si fa in maniera un pochino diversa però questo diciamo che dovrebbe essere il modo canonico per farlo a volte devi chiudere e riaprire l'editor perché sennò non te lo prende quindi boh spero che me l'abbia preso vediamo se me l'ha preso no sì me l'ha preso ok perfetto come ho fatto accorgermi che me l'ha preso perché ad esempio se io installo black come vi dicevo ho salvato il file e lui in automatico mi ha vedete che ha riformattato il codice per adattarlo agli standard quindi in questo caso per adattarlo allo standard del PEP cosa vuol dire adattarlo allo standard cioè mi ha messo praticamente il codice indentato bene in un determinato modo eccetera eccetera ok quindi abbiamo la nostra funzione per fare i live neighbors poi abbiamo cosa dobbiamo fare dobbiamo fare una funzione che praticamente ci consente di verificare se c'è un cambiamento nella griglia perché vi dicevo che noi dobbiamo passare da una transizione all'altra e ovviamente dobbiamo fare una funzione che ci crea la nuova griglia quindi che costruisce le transizioni ok quindi dobbiamo implementare sostanzialmente queste regole qui come si può fare allora innanzitutto attenzione poi io quella che vi sto proponendo è una mia possibile soluzione non è che l'unica soluzione possibile ovviamente voi potete inventarvi la vostra modificarla trovare il vostro sistema per farlo ok nel senso questa non è neanche una versione molto ottimizzata in realtà poi dopo vedremo come mai allora perché ti sottolineo alcuni termini tipo lives perché vedi se io vado qua sopra questo è pylens praticamente che è l'estensione che utilizza insomma pylint e le librerie che ho installato e mi dice attenzione l'operatore più uguale non è supportato per tipi unknown literal and ellipses perché in questo caso vedi io ho messo i tre puntini e lui non capisce che cos'è questi tre puntini se io usassi tipo 5 qui non mi sottolineerebbe più problema allora lives me lo sottolinea di blu perché perché vedi che lui mi propone delle traduzioni perché in questo caso io ho installato una estensione che mi controlla se la pronuncia praticamente delle non la pronuncia ma la scrittura sintattica di alcune variabili è giusto oppure no in inglese in questo caso siccome lives non è giusto lui mi propone lives o altre life eccetera eccetera in questo caso lasciamo così perché qua come vi dicevo dobbiamo ancora scrivere qualcosa cioè dobbiamo aggiornare la griglia sostanzialmente ok quindi iniziamo a scrivere la nostra grid changings quindi go calls che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno della griglia iniziale e abbiamo bisogno della griglia successiva ok perché noi dobbiamo capire quando c'è stato un cambiamento di stato ok cioè dobbiamo verificare se l'attuale versione del nostro sistema è uguale alla versione precedente ok quindi se ci sono stati dei cambiamenti nelle griglie quindi noi iniziamo a fare come dicevamo prima row in range di rows mettiamogli rows e calls perché ho messo row ok quindi io qua scorro tutte le righe calls e quello che faccio è se la mia griglia ok adesso poi vedremo la griglia non l'abbiamo ancora costruita forse bisognava costruire prima la griglia la griglia in quella in quella determinata posizione è uguale uguale alla quindi è uguale alla griglia in una posizione successiva magari qui possiamo chiamarla sì row call ok allora ritorna true altrimenti possiamo mettere qua ritorno falso ok questo mi serve è una funzione che mi serve per capire se la griglia sostanzialmente cambia cioè avviene un cambiamento tra le due griglie è una funzione di utilità che noi possiamo utilizzare ma la cosa molto importante è questa funzione qui cioè noi dobbiamo ogni iterazione generare che cosa una nuova griglia cioè a partire dallo stato attuale noi dobbiamo verificare lo stato costruire lo stato successivo e poi controllare che i due stati siano corretti tra di loro cioè ci siano stati dei cambiamenti quindi in questo caso posso fare grid posso fare next grid ok o new grid insomma quello che vogliamo e qua possiamo fare che cosa possiamo praticamente iniziare a scrivere quelle che sono le le nostre regole del gioco vera e propria quindi noi cicchiamo su tutte le nostre righe cicchiamo su tutte le nostre colonne ok quello che facciamo è prendere questa funzione e usarla e dire ci sono dei vicini vivi in questa riga in questa colonna come come facciamo row all grid ok abbiamo visto row call forse dobbiamo usare anche ok no va bene però adesso lasciamo così non ho scritto solo in questo modo row call grid ok quindi noi verifichiamo se ci sono dei vicini oppure no e li chiamiamo tipo live cells ok ci sono dei vicini vivi oppure no e adesso mettiamo le regole ok regole quali sono le nostre regole quindi se live cells è minore di due quindi se una cella viva con meno di due celle vive adeacenti muore come effetto l'isolamento se una cella con più di tre celle vive adeacenti muore come effetto ha una sovrappopolazione quindi queste due regole sicuramente possiamo metterle assieme no perché o abbiamo meno di due celle o abbiamo più di tre celle e quindi possiamo implementare in questo caso la regola per la morte quindi or live cells è maggiore di tre cosa facciamo dobbiamo aggiornare la griglia quindi next grid di row call deve essere equal to zero ok altrimenti che cosa succede live cells vediamo un po' con due o tre celle vive adiacenti sopravvivere alla generazione successiva o cella morta con esattamente tre celle vive adiacenti diventa una cella viva come per effetto di riproduzione quindi la cosa che possiamo fare visto che stiamo praticamente facendo i morti in questo momento possiamo fare che ad esempio se il numero di cella vive è uguale a tre e row call e la cella in cui siamo in questo momento nel ciclo for quindi ciclando su tutto il nostro esempio è zero quindi è una cella morta allora questa cella di row call diventerà uno quindi diventerà viva ok altrimenti che cosa succede altrimenti abbiamo visto che semplicemente next grid di row call è uguale a grid di row call quindi abbiamo visto che qui qualsiasi cella viva abbiamo visto che con due o tre celle vive decenti sopravvivere alla generazione successiva quindi noi abbiamo trattato abbiamo fatto praticamente un caso negativo cioè se il numero di cellule è minore di due o il numero di celle è maggiore di tre quindi caso negativo caso negativo altrimenti è vero è vivo perché non ci sono degli altri casi limiti in realtà forse sarebbe meglio scrivere appunto un elif e dirgli se ci sono due due o tre celle vive adiacenti sopravvivere alla generazione successiva però nel senso quindi qua avremmo dovuto dire se maggiore uguale di due and minore uguale di tre possiamo anche farlo e elif live cells maggiore uguale di due and live cells minore uguale di tre next grid di row col equal to one sostanzialmente ok sopravvive alla generazione successiva ma questo è abbastanza inutile come abbiamo visto perché tanto tutti i casi li abbiamo esauriti e quindi possiamo semplicemente dire che le cellule sopravvivono quindi sono uguali lo stato precedente e lo stato successivo è praticamente identico quindi questo per quanto riguarda appunto le regole del gioco in questo momento noi abbiamo definito il core del nostro sistema e questo è un modo di programmare in realtà ce ne sono tanti di modi di programmare magari molti di voi ne sanno più di me però appunto è un modo di programmare questo molto bottom up cioè io parto dalle regole del mio sistema e poi risalgo piano piano a costruire tutto ciò che ci sta attorno fino ad arrivare a una visione più generale ci sono degli altri appoggi tipo il TDD test driven development che hanno magari un approccio top down quindi tu parti dalla definizione di un test o di un caso generale e pian piano scendi giù nelle regole e vai a implementare tutte le tue varie regole questi sono appunto modi di programmazione diversi man mano che insomma se siete le prime armi in mano che approfondirete questo mondo vi accorgerete che i software si possono scrivere in maniera completamente diverso ok questo per quanto riguarda le regole base mentre invece dobbiamo ci mancano alcune cose cioè non è che abbiamo finito qui di fare il nostro gioco perché se lo lanciamo adesso non succede assolutamente un bel tubo la prima cosa che dobbiamo fare è semplicemente è una cosa che ci manca qua sicuramente è quella di dire grid che cosa adesso lasciatemela scrivere e poi la spieghiamo i percentuale di rows che non ce l'abbiamo ma possiamo metterlo ok e calls ok e poi abbiamo visto che siamo su una matrice call più j spero che sia chiaro per tutti fino a questo punto cos'è una matrice cosa sono i for come li stiamo utilizzando perché insomma le abbiamo viste le precedenti serate se non è chiaro ditemelo che le vediamo un attimo cioè questa notazione qua spero che sia chiara quindi grid row call quindi tra due parentesi quadrate ok queste sono le righe queste sono le colonne però insomma spero che non ci siano problemi ok in questo momento che cosa abbiamo fatto semplicemente noi abbiamo aggiornato la percentuale e l'operazione modulo ok modulo resto della divisione praticamente quindi qua cosa dobbiamo fare row più row più i quindi la riga attuale dove siamo più la riga che stiamo vedendo per il modulo e call più j percentuale calls è il modulo perché noi dobbiamo andare a interpretare praticamente dove siamo posizionati sostanzialmente nella nostra cioè dobbiamo andare a selezionare tutte le righe che stanno attorno le wrap le wrap around ok direi che ci siamo che cosa che manca di altro manca sicuramente qui c'è un errore perché c'è un errore qua cosa vuole invalid syntax perché vedete perché serve l'inter quindi c'è un errore perché questo è un if mi sono dimenticato di mettere due punti quindi lo sistemiamo e questo mi segna errore perché perché ovviamente mancano dei parametri argument missing for parameters calls e grid quindi perché get live neighbors noi le abbiamo chiamate così quindi dobbiamo dargli un'altra definizione cioè dobbiamo aggiungere la nostra definizione che era cosa ok questa è scritta male perché è scritta male vediamo cosa vuole scritto male neighbors sarebbe neighbors in realtà scritto male sono dislessico ok bene quindi noi abbiamo definito quelle che sono le regole principali ora cosa dobbiamo fare dobbiamo un po' occuparci di quello che è il nostro sostanzialmente la nostra la nostra griglia quindi come visualizziamo la griglia e come la la possiamo stampare diciamo su schermo come facciamo a farlo allora facciamo dentro a utils magari possiamo chiamarlo anche grid forse un po' più interessante come nome quindi dentro grid che cosa possiamo fare possiamo iniziare a implementare la nostra griglia la stampa della nostra griglia quindi print grid noi abbiamo un numero di colonne è un numero di numero di righe è un numero di colonne abbiamo la nostra grid e poi vedremo che cosa ci serve di altro penso basta e che qua dentro che cosa mettiamo 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 cosa possiamo mettere allora la cosa principale sicuramente è fare questa cosa qua ok quindi stiamo ciclando di nuovo sulle nostre righe le nostre colonne ci sono tanti fuori in questo programma bisognerebbe ottimizzarlo un po' perché tipicamente questi tutti questi porri iniziati possono rallentare molto quello che noi scriviamo e quello che devo fare appunto se la nostra griglia di righe colonne è uguale a zero noi possiamo stampare tipo output possiamo stampare possiamo aggiungere stampare un puntino che è con uno spazio ad esempio altrimenti possiamo che cosa fare stampare una chioccia ad esempio con uno spazio per dire qual è la cella viva ok nel nostro terminale e alla fine noi cosa stamperemo print output virgola and uguale ok allora perché questa cosa mi sta dando errore e non funziona perché mi sta dicendo attenzione questo è pylens ok e in realtà flake 8 che mi sta dicendo attenzione output non è stata definita quindi tu stai usando una variabile qui dentro che però non ha una definizione e ti dico è vero hai ragione perché in nostro caso la nostra stringa non l'abbiamo definita noi stiamo aggiungendo dei caratteri a a questa stringa ma non l'abbiamo definita prima quindi abbiamo definita vuota adesso la cicliamo e e aggiungiamo dei caratteri perché secondo voi questa cosa perché secondo voi qua c'è un errore c'è qualcuno che me lo sa dire intanto che bevo un bicchiere d'acqua cosa succede se noi cicliamo le colonne e in questo caso non va a capo esatto perfetto non va a capo quindi quello che dobbiamo fare è fare questa cosa qua aggiungere anche il carattere voi sapete che le stringhe si possono concatenare semplicemente con un più uguale ok che vuol dire uguale output cioè più uguale vuol dire questa cosa qua ok però al posto di scrivere questa cosa qua possiamo fare più uguale slash n slash e slash n sarebbe newline slash r il carriage return quindi per sfostarci e ok una cosa che manca sicuramente è la fine del nostro print alla fine vogliamo che ci sia uno spazio vuoto ok questa dovrebbe funzionare speriamo vediamo se funziona insomma non lo so ok quindi abbiamo la nostra griglia quello che dobbiamo fare adesso è che cosa dobbiamo innanzitutto creare la griglia il punto di partenza perché noi abbiamo questa print di grid ok quindi quando parte il nostro programma noi possiamo stampare a ogni iterazione una nuova griglia ma quello che ci manca è da dove parto qual è la prima griglia che io posso stampare e qua possiamo definirlo quindi possiamo definire una funzione ad esempio print initial grid di righe e colonne ok avrò una lista vuota perché abbiamo visto che è una lista in realtà ok e quello che dobbiamo fare è sempre fare il nostro ciclo e poi dobbiamo dirgli sostanzialmente che cosa che cosa dobbiamo dirgli allora qua noi incicliamo su righe e colonne quindi noi ad esempio possiamo fare in modo che l'utente da terminale inserisca il numero di righe e il numero di colonne e noi gli generiamo la griglia iniziale con le righe con le colonne e poi dopo ritorniamo alla nostra griglia quindi possiamo fare tipo return grid ok magari facciamogli un grid più uguale a ok lasciamo così ok ovviamente ritornare la griglia ma come vi dicevo il game of life se guardiamo un attimo un esempio online con ok se guardate il game of life parte da una configurazione iniziale quindi io parto da una configurazione iniziale e questo gioco evolve ok quindi io devo avere non posso avere una situazione iniziale vuota perché se vi ricordate le regole nel game of life io devo partire da da un mondo che ha già dei delle celle vive ok delle cellule vive sostanzialmente altrimenti ovviamente sono tutte morte da tre cellule morte non ne può nascere una viva quindi almeno devo avere tre celle sostanzialmente in realtà possiamo definirlo noi quante ne vogliamo di partenza quindi come si fa a generare un numero random su python quindi un numero casuale per farlo abbiamo bisogno di una libreria che appunto è la libreria random che appartiene al linguaggio base al linguaggio standard di python e qui sostanzialmente quello che dobbiamo fare all'interno noi cerchiamo le righe e cerchiamo le colonne quello che facciamo è generare sostanzialmente un intero vedete random.rantint che va da zero a un numero che vogliamo quante celle quante cellule vive vogliamo massimo in una riga in una colonna 10 ok uguale a zero grid rows di sommiamo no e altrimenti grid di rows zero ok perfetto grid rows non l'abbiamo definito perché perché che cos'è grid rows cioè quante quante nelle righe sostanzialmente quante di queste celle sono sono vive ok quindi qua lo incrementiamo e qua sotto cosa facciamo aggiungiamo il nostro contatore delle righe semplicemente quindi qua facciamo grid rows in quale righe noi abbiamo la nostra cellula viva tutto qui molto molto semplice addirittura qui non è accesso qui potremmo anche fare così tanto non lo usiamo l'underscore vuol dire che è un parametro che non viene utilizzato sostanzialmente perché in realtà questa cosa qua non è molto furba perché noi ciclando su tutte le righe ci toccano tutte le colonne tutte le volte noi dobbiamo scorrere tutto l'array in realtà quello che si potrebbe fare qua lo lascio a voi è magari caricare un file con già la definizione della griglia pronta quindi voi definite su un file non so un input di 0 e 1 che è tutto 0 magari 80 righe 80 colonne e ci mettete degli 1 voi caricate questo file e quando c'è l'1 è caricata sostanzialmente la matrice ok all'interno di questo file è una possibile soluzione quindi abbiamo la generazione della prima griglia la generazione la stampa della griglia io volevo far vedere una cosa su python come su qualsiasi linguaggio di programmazione è importantissimo documentare il codice ok fondamentale ci sono molti modi per documentare il codice voi potete scrivere ad esempio un commento con normale quindi stampa la griglia iniziale ok quindi potete fare queste cose qua questo è un ciclo sulle righe ma una cosa molto importante che si fa spesso su python è fare quella che viene chiamata docstring cioè la praticamente definizione di di una funzione di quello che c'è dentro di cosa fa di che parametri ha il suo interno eccetera eccetera utilizzando questa sintassi cioè sotto la funzione voi fate le tre doppi apici e qua scrivete tipo le informazioni della vostra funzione quindi stampa la griglia iniziale all'inizio del gioco un commento molto esaustivo è una cosa molto importante è che ci sono diversi come dire modi per scrivere la docstring diverse regole io uno che uso sempre è se ricordo bene che si chiama così perché ormai lo faccio in automatico non ci penso anche più google docstring python credo google style python docstring esatto questo qua dove praticamente vedete si scrive questa cosa qui args e returns in questa sintassi chieda così dove qua appunto dico ok il parametro uno è rows il parametro due è calls che cosa sono queste sono list list e questo è righe della matrice della griglia iniziale colonne della griglia iniziale e che cosa ritorna questa funzione ritorna griglia che cos'è griglia è una lista la griglia iniziale con le cellule rigenerate ok questo è molto molto importante adesso vi faccio vedere perché perché se io importo questa funzione all'interno di ad esempio facciamo visto che abbiamo definito questa funzione qua andiamo su allora queste sono perché ho sbagliato ho fatto una stupidata ho scritto le regole non mi avete detto niente non siete stati attenti non è vero ho scritto le regole dentro a runners e non dentro a rules quindi adesso le copio ok e le metto dentro a rules importante attenzione ok quindi dentro a rules ho messo le regole dentro a runners adesso che cosa farò farò una funzione che mi lancerà il gioco quindi run game ok e qua dentro avrò la mia funzione che abbiamo chiamato print initial grid ad esempio ok e come vedete qua mi dà attenzione nella pallina gialla e mi segnala di rosso perché mi dice come mai un defined name print initial grid perché non me la vede come una libreria quindi io la devo importare come si importa una libreria from from game che è la cartella principale punto source perché adesso non entro a source punto ad esempio abbiamo detto grid import il nome della funzione print initial grid ok quindi print initial grid è la mia griglia principale e se vedete qua sotto c'è la definizione della mia funzione quindi qua vedete rows list righe della griglia iniziale calls list colonna della griglia iniziale ed è questa è la doc string cioè quello che ho scritto io sostanzialmente nella definizione della documentazione della mia funzione questo è molto molto importante perché soprattutto se lavorate su progetti grandi con altre persone dovete scriverci nella documentazione ancora meglio vi faccio vedere una cosa voi potete definire dare dei suggerimenti adesso non andiamo troppo nel dettaglio dei tipi cioè di che tipo di variabili devono essere queste funzioni questi parametri che voi gli passate quindi questo deve essere una lista questa deve essere una lista e questo mi ritorna che cosa una lista ok quindi io in questo momento sto definendo sto dicendo che attenzione quando io uso print initial grid rows deve essere una lista coz deve essere una lista e mi deve ritornare una lista allora in questo momento questi sono solo sei suggerimenti perché perché python è un linguaggio non tipizzato possiamo mettere così quindi voi potete una variabile può assumere qualsiasi tipo diverso ok qualsiasi tipo per semplificare se vi ricordate allora perché serve perché quando io vado qua vedete io qua posso capire che rows per esempio è una lista cols è una lista e mi ritorno una lista quindi ho una descrizione diciamo migliore ci sono delle altre librerie molto potenti molto belle tipo pidentic che ci consentono di fare una validazione di queste variabili quindi mi consentono di verificare se effettivamente quell'oggetto quella funzione ritorna quel tipo di informazione lì sono molto sempre molto più utilizzate anche perché python sta un po' cercando di avere un'implementazione diciamo a proporre dei tipi un po' più stabili ok un po' più statici si dice in modo tale da velocizzare il linguaggio perché non interpretare i tipi significa essere molto più veloci nel linguaggio ok questa è una delle critiche che vengono fatte a python ci stanno lavorando un po' è così ma insomma piano piano si arriverà ad avere anche questa possibilità forse integrata nel linguaggio base comunque al di là di questa breve digressione abbiamo la nostra funzione run game e ovviamente qua non ranna niente perché non ranna niente perché non abbiamo nulla sostanzialmente allora una cosa che ho sbagliato è che queste qua non sono liste ma sono int aperta pazienza sono bruciato perché il numero di righe e il numero di colonne è un intero non è una lista di valori in questo caso sono dei numeri interi quindi numero di righe è false sarebbe forse meglio scrivere n row numero di righe e numero di colonne i nomi delle variabili sono molto molto importanti mi raccomando non fate come me che le sto scrivendo tutte sbagliate ok perfetto quindi runner abbiamo il nostro run game e quello che dobbiamo fare è praticamente generare dei numeri random quindi noi dobbiamo fare tipo rows uguale a un numero numero quindi abbiamo detto come si fa a generare un numero random si fa import random ok e qua si fa random.randint un numero random che va da 10 a non lo so 60 60 colonne 60 righe e calls abbiamo random.randint qua facciamo un numero di colonne magari un pochino più grandi non so da 10 a 118 quindi in questo caso noi stiamo definendo numero di righe e numero di colonne poi ovviamente dentro qua dobbiamo passare il numero di righe numero di colonne e cos'altro vedete che mi suggerisce mi dà le informazioni del mio metodo della mia funzione nient'altro ok quindi in questo caso noi stampiamo diciamo la griglia la griglia iniziale ok se io lanciassi il gioco in questo modo cosa succederebbe come si lancia allora abbiamo visto che allora innanzitutto dobbiamo prendere questa funzione e metterla dentro il main perché se no ciao ciaone proprio ok run game quindi qua sempre from game punto src punto runners import run game ok e io posso lanciare questo script vediamo cosa succede magari esplode ok non succede niente perché non succede niente perché è super veloce cioè io non riesco a vedere nulla perché esegue qualcosa e subito esce fuori ho bisogno di un time out in qualche modo o di fare in modo che il mio terminale smetta di essere così veloce come si può fare possiamo implementare tipo uno slip cioè possiamo dirgli possiamo dirgli qua sotto che dopo aver iniziato a generare qualcosa mi fa un time punto slip di uno diviso cinque non so possiamo mettere allora time punto slip allora innanzitutto importiamo time import time ok che è una libreria diciamo base anche questa di default del linguaggio e se vedete time punto slip è numero di secondi float boh mettiamo tipo 30 ok e qua mi ritorna basta ok vediamo cosa succede rimani in attesa perché rimani in attesa perché non abbiamo in questo momento una funzione che mi consente di stampare un cioè non abbiamo nessuna stampa non abbiamo nessuna stampa perché qua non abbiamo messo nessuna stampa ok quindi dobbiamo sostanzialmente fare una piccola funzione che praticamente mi stampa il mio mi stampa le cose come facciamo a fare una funzione che stampa semplicemente possiamo fare no ma ce l'abbiamo una funzione che stampa questa è una funzione che stampa l'abbiamo fatta print grid sto impazzendo quindi se noi andiamo qui runners da game punto source punto grid noi cosa possiamo fare print grid e qua facciamo print grid di che cosa di rows calls e grid grid ovviamente dobbiamo recuperarla dall'initial grid e vediamo che cosa succede ok questa è la nostra griglia ok come vedete generata sul nostro terminale quindi noi abbiamo dei punti adesso purtroppo si vede un pochino male perché il nostro terminale è un po' vedete cerco di farvelo vedere un pochino meglio ok questa è la nostra griglia con questi puntini random ok queste sono tutte cellule vive nel nostro terminale che noi abbiamo creato qui vabbè rimane rimane comunque in sospeso perché aspetta 30 secondi buon finito ciao ok adesso dobbiamo implementare la vita cioè dobbiamo fare in modo che ci sia lo scorre della vita la ruota del tempo la ruota del tempo che cos'è sostanzialmente un ciclo che continua ad andare avanti pian piano aggiorna sempre lo stato calcola lo stato successivo eccetera eccetera come si può fare questa operazione allora questa operazione sempre nel nostro run game noi possiamo fare ad esempio questa sarà la generazione 1 noi possiamo digli gen for gen in range di 1 virgola di generations ok quindi gen generations è un parametro che noi possiamo impostare possiamo passarglielo qua generations ad esempio quante generazioni di default mettiamo questo è un intero e vogliamo che ci siano 10.000 generazioni quindi 10.000 cicli di default ma ovviamente possiamo ridimensionarlo e qua che cosa facciamo ad esempio qua facciamo current cosa possiamo fare qui ok qua dobbiamo sostanzialmente generare una la griglia successiva ok ok cosa vuol dire generare la griglia successiva vuol dire che dobbiamo creare la griglia successiva avremo un tempo di attesa di poco magari un secondo ok o un secondo mezzo secondo ok una roba del genere in modo tale che ci sia un po' una qualcosa di veloce e ok e qua dobbiamo generare una funzione per calcolare la griglia successiva sostanzialmente e poi pian piano ogni volta stampare la griglia tutte le volte ok ok quello che ci manca sicuramente che cos'è è all'interno della nostra griglia fare in modo di calcolare sostanzialmente la griglia successiva come si può calcolare la griglia successiva allora vediamo un po' noi abbiamo l'initial grid abbiamo la print grid e qua fin qua ci siamo noi generiamo dei numeri casuali per definire la nostra size e va bene qui abbiamo i nostri leave neighbors grid changing create next grid quindi noi abbiamo la nostra praticamente create next grid ok e quello che dobbiamo fare è sostanzialmente andare su sul nostro runner e creare la nostra regola la nostra griglia successiva come si genera la griglia successiva usiamo la nostra funzione ma prima dobbiamo importarla quindi la importiamo prom game punto source punto rules import create next grid ok e quindi qua abbiamo la nostra create next grid che ha bisogno di rows vedete che c'è scritto unknown perché non sa di che tipo è in alto nella descrizione dobbiamo eventualmente dovremmo specificare meglio che cosa sono tutti i vari parametri però noi dobbiamo passargli appunto delle informazioni ok quindi noi dobbiamo passargli la riga dove siamo la colonna la la griglia attuale quindi possiamo chiamarla current generation e la griglia successiva next generation o andrebbe restituirla alla griglia successiva allora questa funzione create next grid praticamente lui calcola ok la la griglia successiva cioè noi in questo modo create next grid forse non è molto comodo per dirlo così cioè noi per generare la griglia successiva noi dobbiamo in qualche modo perché non c'è nessun return qua sulla create next grid ok no scusami questo fa il controllo della griglia successiva questo mi fa il controllo se la griglia successiva ok allora questa mi prende la griglia attuale ok e applica le regole alla griglia attuale nella griglia successiva quindi io la griglia attuale ciclando qui dentro vedi qua vado su next grid row call qui applico gli dico questa 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 condizione è vera se questa condizione è vera allora la griglia successiva avrà zero altrimenti avrà uno altrimenti sarà lo stesso valore che c'era prima quindi io praticamente qui prendo le due griglie la griglia attuale e la griglia successiva le controllo tra di loro e se c'è un cambiamento lo applico alla griglia successiva quello che devo fare poi è stamparlo non mi restituisce una griglia in realtà ma applica la griglia precedente alla griglia successiva applicando le regole non so mi sono spiegato Mario è chiaro forse così poi lo vedo allora no non è ancora chiaro vabbè ok quindi se io vado qui che cosa faccio allora dove eravamo eravamo su runners ok current grid e next generation quindi possiamo fare current grid e next grid per essere compliance quindi quello che vado a fare è sostanzialmente questa cosa qua allora allora posso stampare la allora vediamo un attimo ok allora innanzitutto è applicare le regole alla griglia successiva alla griglia corrente e passandole a quella successiva ok mentre qua quello che vado a fare è sostanzialmente devo controllare se ci sono stati dei cambiamenti vediamo un po' grid changing esatto se ci sono stati dei cambiamenti posso andare posso andare avanti altrimenti mi fermo vabbè questo possiamo anche adesso lasciarlo come comportamento poi dopo lo vediamo dopo però quello che devo fare sicuramente è dove sono main ok nel runner sto perdendo con tutti i file magari qui lo chiudo così non mi perdo via ok ok quello che quello che devo andare a fare è sostanzialmente stampare questa griglia man mano che tu ogni a ogni generazione quindi quello che devo fare è print grid ok rows calls griglia current grid ok e visto che io ho bisogno anche di adesso mi sto incasinando spero di no ho bisogno anche di ok no direi che basta così ok basta basta così ok e quello che vado a fare è adesso abbiate pazienza il brutto del live coding in diretta e ok qua current grid e next generation non ce l'abbiamo quindi sostanzialmente devo generarli allora devo generarli questa è una cosa brutta in realtà perché io ho fatto una cosa un po' brutta forse si può fare molto meglio perché man mano che la sto facendo mi sto accorgendo che ho fatto un errore cioè non è un errore ma non è una soluzione molto elegante cioè che cosa ho fatto è in realtà io ho fatto la print initial grid quindi la creazione della riga iniziale ma ho fatto anche la quindi current grid e io next grid cioè io ho fatto la generazione della prima griglia e della seconda ok cioè io ho fatto questo modo ho fatto la prima griglia la seconda griglia generate random all'inizio e poi che cosa ho fatto ho applicato il controllo tra le due griglie se le due griglie e poi applico tra la prima griglia e la seconda griglia le regole ok se le regole sono rispettate allora vado avanti nella generazione altrimenti praticamente mi mi fermo e genero la griglia successiva non è proprio una soluzione molto molto elegante qua tra l'altro non è grid ma è penso print grid di current 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 grid e qua create next grid e applico alla ring ok magari forse aveva più senso farlo ok sì perché ho fatto ok current grid è quello che faccio qua sotto e questo è il trick molto brutto che avevo fatto ok cioè che cosa ho fatto prima le ho generate random le ho inizializzate random l'initial grid e la next grid e poi che cosa ho fatto le ho scambiate sostanzialmente cioè la current grid l'ho fatta diventare next grid e la next grid l'ho fatta diventare current grid quindi tutte le volte praticamente io ho questo ciclo che si scambiano le due griglie è una soluzione non è una soluzione più elegante forse però vi sfido a trovare un modo più semplice per farlo utilizzando solo la libreria base quindi non pi game non facendo delle cose particolari cioè è una soluzione possibile però non è forse quella più più elegante e poi alla fine stampo la griglia attuale ok vediamo che cosa salta fuori se io genero faccio questa cosa qua generations e vediamo cosa succede questo mistero ok vedete ok adesso perché questa cosa ogni volta mi propone un terminale diverso perché devo fare in modo che devo pulire il terminale in cui sono perché vedete ogni volta mi generano un nuovo un nuovo pezzo di terminale sotto tutte le volte e non è una grandissima cosa quindi devo implementare una piccola funzioncina che mi pulisca il terminale e questo è un po' un problema in realtà perché ogni sistema operativo c'ha il suo terminale diverso quindi se io vado su grid qui io posso implementarmi una funzione che possiamo chiamare def clear console ok qual è il problema con le console il problema è che ogni sistema operativo ha delle sue diciamo la sua console il suo modo per pulire la console interagire con la console quindi ad esempio se io voglio usare windows posso utilizzare queste due librerie una è sys e l'altra è os cosa posso fare? posso fare if sys.platform punto starts with windows win ok cioè se io sono su windows cosa posso fare? system clear se sono su windows e cls bravo grazie elif sys.platform punto start with linux os system clear questo ti ringraziamo molto copilot che mi dà degli ottimi suggerimenti mi farete un sacco di tempo altrimenti posso stampare un errore per esempio platform guarda che bravo platform non supporta non usate copilot no nel senso è utile a volte per queste cose molto semplici ok perfetto direi che ci siamo abbiamo la print abbiamo le cose la clear console dove dobbiamo implementarla dobbiamo implementare nel main nel run game scusate nel nostro ciclo noi tutte le volte dovremo in qualche modo pulire la la nostra console possiamo pulirla qui magari all'inizio di tutto il ciclo così dovrebbe essere a posto ad ogni generazione dobbiamo pulirla sì in realtà sì dovremmo pulirla ogni generazione potremmo metterla qua sotto magari qua sotto di ciclo vediamo cosa succede se la mettiamo qui clear console ok quindi clear console la mettiamo sempre qui ok vediamo cosa succede ok sta funzionando non sta funzionando ok forse perché sono su mac perché sono su mac io ho fatto windows e linux com'era mac era darwin credo adesso vediamo mi sono perso dove era la funzione per pulire grid ho cancellato la chiamata adesso guardo system lì dovrebbe essere anche qua adesso guardo ho cancellato la chiamata la chiamata c'è qua sotto mettiamola anche all'inizio quindi puliamo tutto ok adesso funziona adesso funziona perché non avevo non avevo implementato quello di mac vedete che qua qui si è generata una cosa molto simpatica nel game of life cioè ci sono questi quattro che sono vivi rimangono vivi questi qui che sono vivi per qualche motivo spero che sia giusto tre vivi un morto tre vivi eh sì un morto quindi questi sono tre vivi un morto però questo ha quattro vivi attorno però non adiacenti e questo invece continua a ciclare su di lui a vivere vivo morto vivo morto vivo morto in realtà appunto il game of life è un gioco infinito cioè nel senso voi potete lasciarlo girare magari dopo x iterazioni n iterazioni succede qualcosa di diverso in questo caso non credo perché è abbastanza stabile ovviamente qua è tutto random nel senso sicuramente come si potrebbe migliorare questo programma e come si potrebbe diciamo potenziare allora la prima cosa sicuramente da fare è fare in modo che l'utente che ci sia un input di un utente quindi che ci sia ad esempio da terminale voglio chiedere all'utente il numero di rig il numero di colonne che voglio generare voglio sapere a ogni iterazione a che tempo siamo cioè qual è il numero di iterazioni a ogni istante a ogni secondo a ogni click si chiamano cioè a ogni istante di tempo un'altra cosa che si potrebbe fare è un'implementazione tramite classi quindi voi potreste prendere questo queste breve funzioni che noi abbiamo scritto questa sera trasformarle nelle classi e poi provare a generare diciamo un un progetto basato su classi vi ho scritto appunto alcune miglioramenti alcune implementazioni qua ovviamente non abbiamo il tempo di fare pie game questa sera nelle prossime giorni vi carico una soluzione più come dire aggiornata migliorata con anche pie game e con anche appunto magari un'implementazione un po' più carina nel frattempo ve la finisco però intanto io ve la committo così voi avete il codice aggiunto codice pie game e ve la pusho così ce l'avete nella repository e potete guardarcelo e darci un'occhiata e i prossimi giorni potreste guarda che bel typo qua potreste proporre un po' una vostra soluzione cioè o una modifica o un miglioramento cioè questa è un po' la sfida che vi lancio perché game of life appunto perché come avete visto le regole sono molto semplici il gioco è molto carino ma non è così scontato non è così banale e la cosa molto interessante è che viene utilizzato molto come anche progetto e diciamo esempio di programmazione che viene fatto magari nei vari quiz che trovate in giro nelle varie aziende eccetera a proposito di questo vi consiglio questo bellissimo sito che si chiama codewars dove voi trovate tantissimi challenge come questa che voi potete fare potete in qualche modo mettervi alla prova con altre community con altre persone online game of life viene spesso utilizzato come challenge diciamo per di programmazione ed è un buon progetto per iniziare diciamo scrivere un po' di codice capire un po' come funziona e sbatterci la testa quindi potete davvero qua sbizzarrirvi e implementare tutto quello che volete bene il tempo per questa sera è finito vi ho annoiato a sufficienza spero che sia stato interessante quantomeno e sia stato utile per qualcuno e ci tenevamo a fare un piccolo esempio di live coding per appunto farvi vedere alcune cose non so come funziona virtual environment visual studio code come fare qualcosa di un pochino più diciamo professionale anche con python visto che erano arrivate queste richieste le scorse le scorse serate e spero che vi sia piaciuto perdonate la live coding e un po' le cose un po' improvvisate all'ultimo minuto e insomma aspetto di vedere un po' le vostre soluzioni e le vostre i vostri le vostre modifiche e grazie grazie a tutti a voi buona serata ci vediamo cosa molto importante giovedì sera facciamo una piccola serata dove presentiamo i risultati del python del sondaggione che abbiamo fatto sulla community facciamo vedere un po' di insights parliamo un po' del futuro di come organizzare il gruppo telegram discord se volete fare due salti due chiacchiere con noi ci fa un sacco piacere e Ehm...